E' un'altra Sì, ho preso, tango 2. Dobbiamo andare verso di là, ora 10 o 11. E' il dirac? E' qua davanti, eh. Sì. Sì, ho capito, no, 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 no. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Sì. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Occhio. Sì. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Sì. Sì. Sì, ho capito. 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 Sì, ho capito.